Questo bellissimo impegno che ha accompagnato in questi giorni l'Alleanza Assicurazioni con il sostegno del Comune di San Giovanni Diadino per far sì che sul territorio si possa dare un segno tangibile che ci sono ancora sia istituzioni sia aziende che sul sistema in Italia ci vogliono ancora investire e che sui giorni, sulle persone che cercano lavoro in questo contesto vogliono scommettere per far emergere quelle potenzialità e quelle professionalità che pure nella nostra società ci sono, sono di eccellenza ma purtroppo a volte un sistema che non ha mai chiuso su se stesso tende a nascondere, tende a non dare più opportunità a chi il lavoro lo cerca e che potrebbe dare molto da questo punto di vista. Noi come Administrazione Comunale su questa parte, su questo elemento fondante della società ci abbiamo scommesso in questi anni e abbiamo cercato varie opportunità e abbiamo individuato un percorso insieme al Ministero del Welfare per farci finanziare uno sportello lavoro che è uno dei pochi in Italia che oggi mette in relazione alla domanda e all'offerta. quindi ci siamo dotati di uno strumento che sicuramente è ancora da far conoscere nei minimi particolari nelle opportunità e nelle potenzialità che questo strumento ha perché in un contesto in cui c'è una sfiducia latente nelle istituzioni, c'è una sfiducia nel mondo del lavoro è difficile anche immaginare persone che si avvicinano allo sportello, allo sportello e allo strumento che comunque quotidianamente delle opportunità le mette a disposizione. Le mette a disposizione perché noi come Administrazione Comunale abbiamo avuto sempre una linea tesa a mettere realmente in relazione alla domanda e all'offerta perché di domanda c'è tanta, noi quotidianamente ci interfacciamo con i nostri cittadini, cittadini che vengono da altri comuni, giovani, meno giovani, lavorano verso chi lo cerca, che ovviamente cerca di ricollocarsi. Però se non si crea un tessuto, una collaborazione forte, un incentivo alle aziende a venire e investire nel tuo territorio, qui nel territorio che questo lavoro lo cerca, è difficile che poi tu riesci in qualche modo a dare delle opportunità. E quindi noi come St. Giovanni Diattino, con l'amministrazione, appare evidente agli occhi di tutti che in un territorio in piena espansione, anche in un momento di recessione, abbiamo tante aziende che vengono a investire da noi, molte commerciali, ma molte anche terziari, ci sono ancora aziende industriali e chi come Alleanza investe in altri settori e che ha voluto fare una scommessa sul territorio di St. Giovanni Diattino e che nel momento in cui il dottor Ottaviani ci ha comunicato, noi siamo stati ben felici di accogliere l'iniziativa di questo tipo, l'abbiamo sostenuta, la sponsorizziamo, perché Alleanza rappresenta un'azienda storica, un'azienda che ha una sua solidità e immagine forte e che dà prestigio al territorio di St. Giovanni Diattino da questo punto di vista. Quindi è un'iniziativa importante, è un'iniziativa che abbiamo avuto modo in questi giorni di condividere, sicuramente anche chi si è avvicinato per avere una futura collaborazione con questa azienda avrà visto la serietà, le modalità e l'approccio a una prospettiva futura che questa azienda può dare. Quindi noi ripariamo che il futuro, per quanto ci riguarda, sarà quello di continuare a immaginare altre iniziative come queste. Noi cercheremo fortemente di incentivare tutte quelle aziende che vogliono dare un sostegno a questo territorio e vogliono venire ad investire da loro. Avranno una strada schianata, avranno la porta aperta, un'amministrazione che investe molto sul sociale, che investe molto sul lavoro, perché oggi immaginare le amministrazioni che fanno i progetti di opere stratosferiche non è più il momento. Oggi probabilmente bisogna orientare le risorse, le forze, le disponibilità al tessuto umano del comune incoibili, perché è un momento in cui la società ha le sue problematiche, i suoi problemi. Bisogna ricorgersi alle famiglie, bisogna ricorgersi al mondo di quelle persone che cercano lavoro, perché ridare sbaglio, sviluppo, economia e sostegno alle famiglie, alle persone che possono poi farsi portavoce di questa iniziative è sicuramente l'aspetto migliore per un comune. Quindi amministrare oggi cambia gli scenari. Probabilmente, forse qualche decennio fa, l'amministratore era quello che portava a sviluppo in termini di infrastrutture, di opere pubbliche, oggi forse due di meno. Oggi l'amministratore attento è quello che si rivolge soprattutto alle esigenze dei suoi amministrati e cerca di dare sostegno forte a questo tipo di attività. Noi lo stiamo facendo, cercheremo di continuare a farlo. Ringraziamo questa alleanza che abbiamo voluto fare insieme a noi in questo territorio. Speriamo che nel futuro possiamo ripetere queste iniziative. Comunque siamo a disposizione e a nome mio, del sindaco e dell'amministrazione, tutta vogliamo ringraziare l'Aleanza per questa opportunità che ci ha dato. Grazie a voi che avete onorato questa nostra iniziativa con la vostra presenza. Rimaniamo a disposizione per tutto quanto possa essere per il futuro idoneo a fare altre iniziative di questo tipo. Ringrazio e quindi passo la parola all'Aleanza. Saluto qui è il direttore di Alleanza che vi dirà che possa avere quali sono le strategie dell'Aleanza. Grazie. Mi sentite lo stesso per parole. Grazie a lei, Assessore, grazie al Comune, grazie a tutta la Giunta, perché in effetti non è semplice, non è così normale incontrare delle amministrazioni comunali che si mettono a disposizione per collaborare, per cercare di aiutare i giovani a trovare degli sbocchi nel lavoro. Per noi è un'attività, diciamo così, che facciamo storicamente da tanti anni. Alleanza quest'anno festeggia 120 anni di vita. Quest'anno, il 12 ottobre, ci saranno anche dei momenti di celebrazione. Un'azienda, l'abbiamo definita, un'eccellenza italiana perché non sono tantissime le aziende che hanno più di un secolo di vita e Alleanza quest'anno festeggia 120 anni. La caratteristica di Alleanza è sempre stata quella di avvicinare giovani, soprattutto di avvicinare giovani che non avevano esperienza specifica del settore. E in questo, quindi, per noi è fondamentale trovare delle relazioni sul territorio che ci aiutino a individuare talenti. anche perché questo è un mestiere che si rivolge un po' a chi saprà accogliere alcune sfumature di questo lavoro. Non è un'attività, lo diremo anche nella presentazione, cerchiamo di essere anche molto schietti e molto chiari. Non è un'attività per tutti, ma ci mettiamo a disposizione di tutti. Nel senso che cerchiamo di dare l'opportunità a tutti di misurarsi e di volermos misurare le proprie capacità in un'attività in cui occorrono alcune caratteristiche che poi cercheremo di raccontarvi. Nel comune di San Giovanni abbiamo trovato disponibilità e credo adesso se i numeri che ricordo a memoria abbiamo fatto una sessantina di 64 colloqui e per noi è un numero importante riferito ad una sola comunità. Sono numeri importanti, pensate che in Alleanza abbiamo una capacità di assorbire ogni anno circa 10.000 persone in Italia. Di queste 10.000 persone molti avranno iniziato un percorso che li può portare verso una professione fino alla pensione. Per noi l'augurio che ci facciamo è questo. Quindi l'opportunità è un'opportunità reale, un'opportunità di un lavoro che può essere il lavoro definitivo della vita, può essere il lavoro in cui realizzare le proprie aspettative, le proprie ambizioni, i propri sogni. Noi crediamo che se vogliamo mettere in gioco le nostre abilità, le nostre capacità, la nostra volontà di autorealizzazione nel mondo del lavoro, credo che una professione come la nostra sicuramente offri di questo. Non è semplice, non è facile, ma in Alleanza abbiamo anche una caratteristica che credo ci distingua molto anche da altri operatori del settore. Per noi le persone non devono mai stare soli, le persone si devono sentire sempre con qualcuno vicino, in qualche modo avere la sensazione di poter contare sempre sul supporto di qualcuno che ha un po' più di esperienza. Questo ha fatto di alleanza una grandissima scuola nel mondo del lavoro, nello specifico nel mondo assicurativo, dove rappresentiamo davvero una possibilità di ingresso in un settore come quello del mondo delle assicurazioni in cui chiaramente molto spesso ci sono degli stereocchi di un certo tipo, insomma non è il caso di stare a parlarne, ma certamente Alleanza ha voluto sempre distinguersi come quell'azienda che avvicinando giovani in cerca di lavoro, solo persone che magari erano la prima esperienza di lavoro, non avessero delle specifiche competenze già maturate nel settore del lavoro. Questo fa sì che, ripeto, ci sono alcune caratteristiche che sono fondamentali, ma non chiediamo di un settore. Questo ci porta ad incontrare persone anche di diversa estrazione culturale, persone che vengono dal mondo dell'economia, cioè perché ha fatto studi economici, magari chi ha fatto studi anche umanistici. Ricordo una volta il racconto che uno dei più grandi economisti italiani di Mon Sud, dell'era moderna, il troppo compiato presidente Ciampi, che è stato sicuramente una persona non solo dal punto di vista politico, ma dal punto di vista economico, è stato il governatore della Banca d'Italia, è stato ministro dell'economia, dell'euro, eccetera eccetera, aveva fatto studi umanistici, era laureato in lettere a Pisa, la normale di Pisa, la sua prima laurea. Quindi voglio dire, il mondo oggi è interconnesso dal punto di vista dei soci, ma anche dal punto di vista culturale, diciamo così, in Alleanza c'è una grandissima varietà di provenienza delle persone che noi poi cerchiamo di inserire nella nostra struttura. Sicuramente Alleanza, per chi deve iniziare un'attività, rappresenta un buon veicolo, un veicolo riteniamo credibile, anche perché è un'attività che realizziamo costantemente, quotidianamente, ogni giorno dell'anno e da tantissimi anni. Abbiamo un'esperienza importante. Alleanza, peraltro, oggi si distingue nel mondo assicurativo per essere una delle più grandi aziende del settore. È un'azienda che in qualche modo traccia un po' quella che è la rotta su alcuni temi del settore assicurativo e ultimo, ma non ultimo, diciamo ultimo perché siamo arrivati in questi anni, per primi a utilizzare i sistemi informativi per il rapporto con i nostri clienti. Oggi tutti i nostri collaboratori sono votati di un tablet e oramai la consulenza a casa dei clienti la facciamo attraverso i sistemi informatici, non più con dei pezzi di carta e così via. Alleanza è molto votata all'innovazione, non è molto votata alla ricerca di opportunità nel mondo che si ruota, nel mondo della comunicazione, nel mondo dei rapporti interpersonali. Siamo un'azienda che per sua tradizione è sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo e in questo momento rappresentiamo la più grande società di assicurazione in Europa che è tutta digitale praticamente. Quindi da questo punto di vista rappresenta anche un'eccellenza assoluta per alcuni aspetti del nostro lavoro. non mi dilungo troppo, anche perché altrimenti intrucio molte delle informazioni che i miei colleghi vi rappresenteranno.